Lui è Arley, un cucciolo di Carlino adottato come mascotte dal reparto Covid di un ospedale di Città del Messico, diventato un membro a pieno titolo del personale sanitario in servizio. Con tanto di DPI, camice, mascherine e calzari gialli, gira per il reparto sollevando dallo stress medici e infermieri impegnati a combattere il coronavirus. Ci sono colleghi che vogliono coccolarlo e giocare con lui, ha spiegato la neuropsicologa Lucia Ledesma. Dobbiamo anche tener conto della durata significativa della privazione del contatto fisico che subiamo, soprattutto per il personale in prima linea che si è persino isolato dalle proprie famiglie per evitare la possibilità di contaminazione. Ha avuto un effetto molto significativo nell'alleviare lo stress psicologico, lo stress emotivo, lo stress mentale e tutti i tipi di stress che noi, come professionisti della salute, viviamo ogni giorno. Sono i compagni della seczione per il stress. Grazie a tutti, compagni. Grazie, grazie.